Ciao a tutti, oggi siamo qua per la recensione di Sugo Questa è la sede, quella di Sturla Recensione intanto del pane che ci hanno portato gratuitamente Molto buono, vero? Sì E Mirko ha avuto un amore immediato per questa lampada Sì Ha cominciato a giocarci tutto il tempo Ora vi mostrerà come funziona Abbiamo preso un cono di Tweety Che direi che sono tutti qua E... Sì, direi di sì E ora vi diremo cosa sono e come sono Total fake perché erano due analisi di cipolla Due mozzarella fritte di cui una sarebbe mangiata Mirko E poi c'erano due olive Di cui una gli ho dato un morso io Che ho due olive E poi c'era una colpetta, arancino, non so che cazzo sia Al ragù Quindi praticamente ho mangiato una cipolla e una mozzarella Speriamo alla tezza Abbiamo preso questa con penso stracchino Ricotta di capra Spec croccante E poi quella invece con burrata Crescenza e prosciutto No, capocollo Capocollo Ok, recensione Buona Secondo me abbiamo scelto due pizze Un po' troppo pesanti Però Soprattutto Quella, non quella burrata all'altra Secondo me era molto pesante E... Prezzo, boh, ci sta Nella media Nel senso che abbiamo pagato di più E per la qualità ci sta Non abbiamo preso il dolce Perché non ci ispirava nessuno dei dolci Abbiamo detto ci prendiamo qualcosa sul lungomare E... Che se prendiamo vi mostrerò E inserirò in questo video E niente Voto? Voto Io dico sette e mezzo Ah Pecca 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 Sono lentissimi col servizio Lentissimi Grazie Grazie